La storica cabina di controllo dei treni. La cabina Acei, apparato centrale elettrico itinerari, di Roma Termini è considerata uno dei più begli esempi di architettura razionalista italiana, innestata in una stazione ferroviaria. Fu progettata nel 1938 dall'architetto Angelo Mazzoni, lungo via Giovanni Giolitti, in un contesto dove insistono la chiesa di Santa Bibiana, il cosiddetto Tempio di Minerva Medica e l'ala mazzoniana della stazione Termini, di cui ho parlato in un precedente post. È una costruzione in cemento armato alta circa 20 metri, divisa in quattro piani e rivestita in travertino. La cabina Acei è rimasta in servizio fino al 1989, quando la sua funzione è stata sostituita da impianti tecnologicamente più avanzati. Al suo interno si trovano tre banchi di manovra a due ordini di leve, 730 leve in tutto, il sistema che veniva impiegato per regolare il traffico ferroviario. Preservare la storia della tecnica e della mobilità italiana e al contempo mettere un nuovo spazio culturale al servizio della cittadinanza, è il progetto annunciato da Fondazione EFES italiane nel 2020, che raccoglie la memoria storica delle ferrovie italiane, con l'intento di creare un centro culturale. Nel bunker sotterraneo, costruito negli anni 40 per ripararsi dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, avrà vita un grande open space contenente l'archivio centrale della Fondazione Ferrovie dello Stato, allo Architetti Roma.